come essere più motivato beh non è così difficile come sembra partiamo a step 1 non ritardare quello che devi fare o fallo subito soprattutto se richiede poco tempo 2 poniti un obiettivo raggiungibile e raggiungilo così se c'è un posto più avanti 3 pianifica quello che devi fare in modo da non perdere tempo inutile seguimi per avere altri consigli